Sulla didattica, alcune classi stanno, come nelle scuole medie, all'istituto dell'infanzia alle medie, stanno cominciando ad usare con gli alunni, perché naturalmente i documenti condivisi, è stato detto anche da qualche relatore prima, hanno una potenzialità didattica, lavorare su un documento più umano, creare una presentazione con un modo collaborativo con gli alunni che possono intervenire in aula o da casa, è veramente eccezionale. Tra l'altro, le Google Apps, la versione Education, offrono la possibilità di dare degli account limitati, che quindi si possono assegnare anche ad alunni con età fino a 13 anni, perché sono limitati al dominio della scuola, cioè non possono inviare, ricevere dal di fuori, è come davvero quello che dici in terminologia anglosassone, si chiama wall and garden, cioè un giardino protetto. In questo modo la familiarità è crescente sia dei docenti sia dei docenti. Forse questa sera non ho detto troppe volte banale, ma l'ho detto neanche una volta. Bene, sono tutte applicazioni banali, si parla di scrittura, ma è scrittura collaborativa, è un altro tipo di scrittura. Non è quella a cui siamo abituati, è qualcosa di diverso, per utilizzare tecnologie nell'ottica che ha detto prima Gianni, per arrivare a uno sviluppo di tipo cognitivo, per cui la tecnologia è soltanto un mezzo, ma è un mezzo insostituibile. La scrittura collaborativa o la faccio così o non la faccio, in questo caso ho usato la tecnologia per qualcosa di non fattibile in altro modo, e quindi è significativo.